12 poi passa a prova quindi puoi passare ragazza mia e ci vediamo facciamo un video vengo per lavoro cosa è successo? oh mio dio ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati in questo fantastico video quest'oggi siamo su Paper Please atletta di Repubblica che davvero lì vince le strade fidanzata forse uccisa in un rapto di sceologia continua al lavoro 27 novembre 1982 ok Ispettore Ispettore è ora autorizzato ad arrestare gli individui sospetti interrogare in merito alle incongruenze per consentire l'arresto sono in transito rimango un paio di giorni ok questo sembra Elvis parrone fammi vedere che era tanto che non gioco Antegria allora ragazzi io ho visto che non gioco come ho detto prima allora solo richiedenti con passaporto solo documenti in corso di validità validità ok cittadini solo con carte identità franini solo con permesso d'entrata va bene allora maschio ma non c'è la cresta ciccio non c'è la cresta che cazzo vuol dire? ok va bene ho sbagliato allora scadenza 1983 quindi plano prossimo e va bene allora ti chiami Accedovic Lendl va benissimo allora avente passaporto numero ma questo coincide con questo ok qui c'è un'incongruenza ragazza mia non c'è niente di questa storia ehi aspetta arrestato perché volevi assolutamente ingannarmi quindi verrai verrai incarcerato definitivamente quindi avanti con il prossimo grazie oh ragazzo mio che bello che sei scopo del viaggio il visito dei parenti l'oretta di soggiorno vengo 12 settimane ma qua hai detto 3 mesi 12 settimane non sono 3 mesi o si allora innanzitutto prima che eugene costov sky va bene scadenza domani alla prossima questo va bene visita vabbè 12 va bene puoi passare amico mio puoi passare mi fido mi fido di te non c'era faccia molto tranquilla però io vado avanti ma porca di quella puzzola cosa è successo un passaporto cazzo ci danno un confono vaffanculo io che mi fidavo di te vengo un paio di giorni ok maschio è lui repubblica ok vabbè ma è lui è il tizio è il tizio è sì ma è il tizio è lui è lo stronzo come faccio a dirlo è il cattivo è il cattivo dovevamo mandarlo all'arresto arrestatelo come si fa all'arresto scusami non c'è non c'è qualcosa di scritto questo questo è lui è lui è lui è lui donazione ascolta non ho ucciso lei è una trappola non credo nelle bugie repubblica fa passare me arrestatelo arrestatelo ecco è lui il bastardo ma datelo in prigione maledizione voleva incastrarmi prego signore signora con un coso in testa un coso un nido di vespe ma manco solo 14 giorni ok mania man ok scadenza tra due anni a posto il passaporto numero è congruente vese 14 giorni l'82 l'anno prossimo ma tipo se faccio così c'è qualcosa ok no non succede niente ok può passare l'anno prossimo cioè il mese prossimo può passare non creare problemi ragazza mia capito se no ti ammazzo capito se no ti ammazzo ok che brutta madonna non è mia scelta odio questo schifo di paese sono solo di passaggio durate il soggiorno meno che posso due giorni ah ok vuole proprio passare e andarsene fuori dai coglioni maz redana questo è a posto transito va bene è una femmina la faccia è sua mi sembra tutto a posto quindi può benissimo passare e quindi gli concediamo il timo a prova quindi puoi passare ragazza mia e ci vediamo al prossimo video ragazza vai con il prossimo signora non c'è gli occhi scopo del viaggio di passaggio ho detto due giorni oh 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 no ma ho detto due giorni sono 14 quindi mi ha detto una bugia però è tutto giusto però mi ha detto una bugia questo si può vedere esatto è diverso ho fatto sbaglio resta solo due settimane no non la faccio passare perché mi ha preso per il culo io non la faccio entrare perché mi ha detto una bugia e va a fare culo quindi puoi andare a fare i bagagli e andartene perché sì ma mi ha detto una bugia vabbè vaffanculo scusami se uno mi dice una bugia non lo faccio entrare oh documenti prego oh eh ma non c'hai visto d'entrata oh per me sono d'entrata scusami non ce l'hai non ti posso far passare non sei la zotca quindi devi andarsene a fare i coglioni prossimo va madonna che brutto che sei madonna che brutto è oggi una persona finalmente siamo arrivati sì ma mi hai risposto ah per sempre vabbè scadenza una prossima boss stock va bene rr7 va bene scopo di immigrazione ma perché sbaglio non lo so ho questo problemino vabbè può entrare guarda che si parla nooo sono tra sveglia oh io è il prossimo ma non passa nessuno questa è sua moglie documenti prego non vuoi passare non hai più messo d'entrata ciao mi dispiace cioè scusatemi uno ce l'ha due con ciao 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 hello male fame 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 vabbè andiamo a mangiare andiamo a mangiare subito il ministero del lavoro ha implementato un programma speciale per il controllo della mano dopo l'immigrata i viaggiatori in entrata del lavoro dovranno esibire foglio di lavoro in corso di validità gloria ok l'anno prossimo paluvia petrocova ok 1984 va benissimo questo è congruente a quello ok vabbè questo è permesso d'entrata chi se ne frega mi sembra tutto conforme quindi ti approvo e puoi venire dentro a lavorare signora quindi io vi te salute se mi arrivo una relazione ti do un calcio da in culo ok è passata buonasera documenti capo del viaggio lavoro l'altro soggiorno vengo a metà anno ah ecco ma dai perché mi devono canare con tutte queste fantasie molto provocanti oh bristan vabbè allora Angela Aboyaya ristorazione vabbè quello che deve fare un anno va bene adesso controlliamo il passaporto con il permesso d'entrata Angela va bene ok 84 va bene questo va bene sei mesi ok tutto a posto e infatti io sbaglio sempre coso dai facciamo entrare gente che sennò qui non passa nessuno non l'ho potuto se è maschile femmina cosa sta roba uomo di nome danni in luto promesso me e mia sorella buon lavoro io non fido ma va a fancura è una poesia del cavolo perché non perda tempo per la poesia del cavolo oh mio dio che brutto raga scopo il viaggio a vita dove soggiorno 12 settimane ok eh 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 ma non sei tu 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 non la so mi dà la foto non so che dire sono io no no impronte non me ne impronte dati due incidenti è veramente lui ma non ci assomiglia per niente questa è grassa e vabbè è lui ragazzi mi devo fidare impronte non posso l'ingannare quindi tengo signore vuole anche questo vabbè ciao ragazzo è lui che devo fa' madonna che brutto che sei scopo del viaggio transito per la sosca per la testo giorno rimangono solo due giorni ok ok questo è a posto gru 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 è una q o una gru gru no con questo no ah c'è una q al posto di una g e impronte mamma ho due nomi diversi ovvio ah veramente due nomi raga sono coincidenti cioè io che ho visto questa cosa è stato veramente difficile però è lui raga cioè micchia fanno il proprio di tutto per ingannarti madonna oh il signore sei mio vecchio amico eh però non hai permesso eh non hai permesso ciccio non hai permesso non puoi entrare mi dispiace dai prossimo ragazzi miei documenti prego documenti prego non c'è permesso l'entrata cioè ah no è di alzotzka posso ma finalmente giusto raga prima che faccio cazzate ok sono come la identità come lo so eh tu sei tu c'è la faccia ma non sberli ce l'hai quindi oddio che è successo io che cazzo è questo ah ok non ho controllato eh raga cazzo non ho controllato non avevo visto questo eh vabbè dai raga mi dovete perdonare per questa piccola violazione documenti prego ok 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 l'udum dare 146 185 centimetri non mi interessa ok beh mi sembra tutto a posto quindi non facciamo entrare mica non ho visto l'altro che sfiga ma ma che cazzo che roba è questa non è una donna oh io voglio guardare se è lei ok ottimo 62 chi non c'è san c'è 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 ma lo prossimo jarbella tamonina ok può entrare ciao bomber entra da Zotzka il prossimo per favore ok questo c'è un naso enorme scopo del viaggio visita amici due settimane ciò che 18 giorni perfetto allora drag dragunov ok pyrog perfetto questo è coincidente il prossimo ok tutto a posto no non c'è no ce l'ho fatta un po' strano ok allora a posto ok puoi entrare ciccio sta per scadere il tempo eh raga ok andiamo al prossimo e sarà che non mi non c'è qualcuno mi inganna diciamo raga documenti prego vengo per lavoro durata il giorno solo due settimane ok aspetta raga ha detto lavoro vengo per lavoro qua c'è scritto visita oh cosa è successo oh mio dio un talebano è un talebano ha bisogno di medicina cavolo medicina per figlio vai freddo 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 ok non ci credo nuovo attacco prestigio di gresti ma lei è morta in un club di gresti vabbè non ci credo raga cioè ho avuto paura vai vai ho avuto pi Grazie a tutti